Use on Air, il programma di aggiornamento giurisprudenziale in diritto amministrativo, civile, lavoro e penale, a cura della sezione di Avellino del Movimento Forense. L'odierno appuntamento di Use on Air, la rassegna di giurisprudenza a cura della sezione di Avellino del Movimento Forense, in materia di diritto e procedura civile, dedica la propria attenzione alla ordinanza della Corte di Cassazione del 10 gennaio 2019 numero 403 che delibera in materia di separazione personale tra coniugi, dettando il principio secondo il quale la forma dell'appello è determinante sulla tempestività del ricorso. La Suprema Corte osserva che in tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, la disposizione secondo la quale l'appello è deciso in Camera di Consiglio, ossia la legge numero 74 del 1987, va interpretata nel senso che essa postula l'applicazione del rito camerale con riferimento all'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine perentorio di cui agli articoli 325 e 327 del codice di procedura civile, costituendo per converso la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio. Tuttavia, ove l'appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulti predicabile, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge. La Suprema Corte precisa di fatti che l'appello deciso in Camera di Consiglio è ammissibile se viene rispettato il termine di sei mesi dalla sua proposizione mediante deposito del ricorso. Superato questo tetto va dichiarato inammissibile. Nel caso invece in cui l'appello sia stato prodotto con atto di citazione, come nel caso concreto alla valutazione della Suprema Corte e non con un ricorso, al fine del rispetto del termine di sei mesi per l'impugnazione va considerata anche l'iscrizione al ruolo del procedimento, che deve essere necessariamente eseguita entro detto termine. Nella vicenda esaminata, infatti, il soggetto ha proposto appello contro la decisione di prime cure il 14 ottobre 2016 con atto di citazione notificato a mezzo pecca ai difensori in data 13 aprile 2017, provvedendo poi ad iscrivere al ruolo la causa solo il 24 aprile 2017, ossia tardivamente rispetto al termine di legge. Il ricorso è stato dunque dichiarato in tempestivo e come tale inammissibile. You Slow Web Radio 331 30 97 852 www.webradio.it Ascolta quando vuoi e dove vuoi You Slow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni